Anche in Molise il Superbonus edilizio 110% sta mostrando i suoi effetti benefici sull'economia e l'occupazione. Le prospettive di questa misura in ottica di transizione ecologica saranno al centro di un dibattito dopodomani pomeriggio in Via Milano a Campobasso, promosso dal Movimento 5 Stelle che incontrerà i rappresentanti delle istituzioni alla presenza dell'ideatore del Superbonus, il deputato Riccardo Fraccaro. Abbiamo in questi anni di governo fortemente puntato sulla misura del Superbonus 110% ed oggi stiamo iniziando a vedere alcuni cantieri attivi e alcuni cittadini che stanno finalmente iniziando ad effettuare i lavori. La misura attualmente sta vivendo una fase di incertezza, va rifinanziata e promossa per il futuro. Per questo motivo abbiamo inteso organizzare un incontro con l'ideatore della misura, l'ex sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, che sarà presente venerdì 25 a Campobasso presso la Sala della Costituzione della provincia. Sarà un momento di confronto con gli amministratori locali, con i professionisti del settore ma anche con i cittadini, per parlare un po' più nel dettaglio degli effetti benefici che ha portato questa misura sul patrimonio edilizio italiano, ma anche per discutere delle prospettive di sviluppo future che questa misura può avere. È un'occasione sicuramente utile per entrare un po' più nel dettaglio delle questioni e per parlare con i tecnici e con i professionisti che stanno operando direttamente ed in prima linea per l'attuazione di questa misura. La finalità del confronto è quella perciò di mettere insieme cittadini, costruttori e politici per fare il punto sulle ultime novità, raccogliere le necessità di chi opera con i suoi cantieri edini e fornire chiarimenti sui tempi e le modalità attraverso i quali chiunque possa approfittare dei suoi vantaggi.